autotune gratis già quando io sento la parola gratis il giro non è interiore andiamo a vedere oggi parliamo di autotune gratis e vediamo effettivamente se è un tune che è buono o non è buono facciamo un po' di considerazioni ma benvenuto su questo canale io sono Orlando sono un ingegnere del suono e quello che faccio ogni singolo giorno è aiutare gli artisti ad andare sul mercato musicale con i miei servizi di mix e master ad un livello pro oppure aiutare gli ingegneri del suono o gli aspiranti tali a migliorare le proprie skills di mix e master con i miei percorsi privati che puoi trovare in descrizione ma l'argomento di oggi è autotune autotune gratis si parla di Grelion probabilmente tu conosci questo tune io sono venuto a conoscenza perché alcuni miei studenti hanno detto ma tu che cosa ne pensi di Grelion dell'autotune gratis se neanche lo conoscevo ho detto aspetta un attimo fammi andare a capire e quindi oggi faremo un po' di comparazioni tra questo autotune e l'autotune che io di solito uso che non è l'Antares Pro uso anche l'Antares Pro però ne ho scoperto un altro su alcune cose un po' più interessanti quindi questo è l'autotune Grelion che puoi scaricare gratuitamente come funziona come tutti gli autotune qui vedi nei preset ci sono già le scale quindi prima cosa che devi fare come ogni autotune trovare la tonalità del brano trovare la tonalità del brano inserisci la chiave la tonalità perché il tune lavora sul riferimento se no intorno alla voce ma rispetto a cosa chiaro quindi devi trovare la chiave bene fatto questo è un tune normale ci sono i controlli correction enable o off quindi totalmente corretta oppure no full mettiamo su full ok vedi qua si vede esce correction si o no smooth slow o fast sarebbe il return speed questo dell'autotune normale quindi valori slow hanno un tuning più leggero valori fast hanno un tuning più robotico come si usa al giorno d'oggi nella trap range snap range snap è quanto rapidamente cambia la nota ok quindi questo qui va settato se la mettiamo proprio qui dopo 8 semitoni lui cambia nota invece qua dopo 0.10 semitoni esperimenta qua per vedere quello devi trovare il fine tuning giusto per capire come lavora meglio nel tuo nel tuo range possiamo lasciarlo così va benissimo poi reference qua 430 432 va sempre lasciato così no dipende se ti arriva un brano in studio che è accordato a 432 non succede mai però se arriva questo devi spostarlo quindi non è vero che va lasciato sempre così dipende dal brano che ti arriva e poi l'inerzia qui c'è questo qui indica quanto lentamente il tune cambia intonazione poi tutto lo faccio ascoltare così si capisce meglio è un tune come tutti quanti gli altri possono cambiare i nomi ma alla fine i parametri sono quelli bene però non è questo quello che mi interessa dobbiamo andare a capire come suona ascoltiamo questo piccolo frame un attimino per capire un po' questo è il tune vedete lui qui sta cominciando a fare le cose questa sezione qua non te la descrivo proprio perché tanto voglio dire sono bloccate se vuoi sbloccare devi prendere la versione a pagamento vai passiamo tutta la catena e questo qui è il suono di questo autotune prendiamo l'altro autotune che è quello che io utilizzo per la maggior parte devo dire per la maggior parte delle volte questo di brainwars il crispy tuner per me funziona 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 veramente bene c'ha delle cose interessanti e quindi vediamo questo è il suono del crispy tuner ora sta suonando il crispy tuner ok adesso facciamo suonare l'altro mettiamolo in solo giro in giro con i frat ma l'ordi frame questo questo mettiamo il crispy tuner in solo guerrieri senza le spade miracoli del catra già la prima cosa che possiamo notare possiamo notare che il crispy tuner è molto più preciso molto più preciso e molto più trasparente mentre il grelion introduce con una sorta di giramento di fase nella nella traccia e sembra che introduca un po di chorus giro in giro con i frat ma l'ordi frame questo strato guerrieri senza le spade si è come se come se avesse una sorta di di chorus che interviene e personalmente a me questa cosa non piace poi mettiamoci la catena vediamo un po che catena ho fatto qua vabbè una saturazione giusto una cosa miracoli del catra giro in giro con i frat ok qua ha voluto esagerare la saturazione ci può stare vediamo un po con la saturazione esagerata cosa ne esce fuori ma l'ordi frame questo strato guerrieri senza le spade miracoli del catra giro in giro con i frat ma l'ordi frame questo strato guerrieri senza le spade ok vabbè c'è una saturazione accentuata ci può stare è un modo anche per testare la dotium sotto stress perché questa è una cosa che va vista va vista in alcuni mix ti può capitare di voler fare una voce con una saturazione accentuata e quindi devi capire come funziona giro in giro con i frat ma l'ordi frame questo strato guerrieri senza le spade miracoli del catra ora sta suonando il grelion ora suona il grelion giro in giro con i frat ma l'ordi frame questo strato guerrieri senza le spade miracoli del catra e ora il crispy tuner giro in giro con i frat ma l'ordi frame questo strato guerrieri senza le spade miracoli del catra con la base grelion più base guerrieri senza le spade miracoli del catra ok giro in giro con i frat ma l'ordi frame questo strato e allora sta suonando il crispy tuner guerrieri senza le spade miracoli del catra beh in definitiva per me personalmente parlando questo è un mio parere non c'è storia tra il crispy tuner e il grelion sì è vero perché non mi piace ma perché introduce secondo me dei giramenti di fase una sorta di chorus non è trasparente come autotune da troppo alla voce da troppo del suo carattere che però è esagerato per quanto mi riguarda non è qualcosa a cui io tenderei quindi per me no facciamo come a a cosa a the voice per me no per me no per me no perché no no non mi piace non lo metterei mai questo su una mia voce lead poi se tu mi dici su una doppia lo metteresti beh potrebbe potrei anche metterlo per perché per dare un colore diverso e dare uno stacco tonale rispetto alla voce principale potrei anche metterlo ma io su una voce lead questo non lo metterei mai quindi per me questo autotune gratis è no mi spiace ma non mi piace no e no quindi tra i due preferisco pagare qui c'è un'altra cosa preferisco investire su un autotune buono che comunque mi faccia fare dei buoni mix piuttosto che magari andare a riparare su queste cose che a me personalmente non è piaciuto quindi ai miei studenti dirò no e anche a te dico no ad orlando questo audio non gli piace anche per oggi abbiamo finito spero che questo video ti sia stato utile per capire un po' soprattutto per sentire le differenze fra questo autotune e quell'altro autotune poi fai anche tu le tue prove perché non è che questo è un mio parere che può anche non essere condivisa ma personalmente parlando no in descrizione trovi link per accedere ai miei percorsi privati se vuoi approfondire questi argomenti di mix e master abbiamo anche percorsi sul lato tune sulle voci quindi in descrizione trovi link per accedere ai miei percorsi privati oppure se sei un artista e cerchi un ingegnere del suono che vada a finalizzare i tuoi percorsi o i tuoi i tuoi prodotti puoi mandarmi le tue separate in descrizione trovi anche il link per candidarti ad una telefonata con me perché io prima di lavorare con te devo capire se effettivamente possiamo meno lavorare insieme da Orlando e dal Minerva Studio è tutto ci vediamo alla prossima ciao ciao